L'amministrazione comunale incontra le scuole di Torre del Greco, dai temi della pubblica istruzione a quelli dell'ambiente. Focus questa mattina con i dirigenti scolastici nella sala consigliare di Palazzo Baronale, un'occasione per illustrare le iniziative e le progettualità da portare avanti nei diversi settori. Insieme al sindaco Luigi Mennella sono intervenuti l'assessore alla pubblica istruzione Maria Teresa Sorrentino, l'assessore con delega alla transizione ecologica Laura Vitiello, l'assessore con delega all'ambiente Antonio Ramondo. I temi sono stati tanti, la cosa più bella che mi piace sottolineare è che per la prima volta questo incontro prevede la partecipazione di tre assessori, quindi proviamo a mettere insieme i temi che riguardano l'istruzione da una parte, l'ambiente e l'energia, quindi con il tema delle energie rinnovabili dall'altra. Per quanto riguarda le istruzioni abbiamo affrontato tematiche importanti, quali indicazioni operative e tecniche rispetto al servizio di mensa e di trasporto, che come sapete il servizio di mensa partirà la settimana prossima, praticamente il 19 ottobre. A questo proposito esorto chi non l'abbia ancora fatto a procedere con la nuova iscrizione e con il rinnovo dell'iscrizione precedente. Il mese prossimo partiremo con il trasporto scolastico, a breve inizieremo a partire con le iscrizioni. Ci sono stati dei ritardi e ci sono un po' di lamentele delle famiglie? Allora, rispetto alla mensa in realtà ci sono stati degli anticipi, nel senso che partiamo con quasi un mese di anticipo rispetto all'anno scorso e questo è un risultato molto importante ed è obiettivo di questa amministrazione lavorare affinché questo tempo possa anticiparsi sempre di più. Rispetto al trasporto capisco che quest'anno è partito un po' in ritardo, io mi scuso con le famiglie rispetto a questo ritardo, purtroppo è un ritardo che abbiamo un po' ereditato perché come qualche genitore già sa rispetto al trasporto scolastico era in atto quando ci siamo insediati una gara per l'affidamento del servizio ad un ente e ovviamente abbiamo ereditato un po' le difficoltà che erano insite in questa gara e questo ha portato dei ritardi. Tra le iniziative in cantiere è anche un punto lettura e diversi progetti extrascolastici. Con una delibera di giunta abbiamo deciso di spostare il punto lettura che adesso vive all'interno di un istituto scolastico che abbiamo costituito con la fondazione Polis, abbiamo deciso di spostarlo qui a Palazzo Baronale. Il punto lettura sarà dedicato a Giovanni Guarino che è un giovane della nostra terra prematuramente scomparso su volontà anche della sua famiglia perché l'idea è che la vita che si spezza deve essere combattuta con la speranza. Progetti extrascolastici sono quelli che finanziamo come settore istruzione, daremo dei finanziamenti a tutte le scuole su progetti che sono le scuole stesse a presentarci, quindi che rispondono direttamente a loro fabbisogno. Tra le iniziative del suo assessorato anche il progetto Restart, di che cosa si tratta? È un progetto di contrasto al fenomeno del maltrattamento e dell'abuso dall'infanzia, per cui avremo degli specialisti e dei professionisti sul nostro territorio che si offrono senza alcun onere economico per il nostro ente di fare dei progetti a tema all'interno delle scuole. La città di Torre del Greco ha finalmente imboccato la strada della transizione energetica che vogliamo portare avanti soprattutto con il ruolo e il contributo importantissimo, fondamentale delle scuole. Ecco, in che senso il ruolo delle scuole è fondamentale? Le scuole potranno mettere a disposizione i loro tetti, i tetti dei loro edifici e dei lastrici solari per costituire un impianto di produzione che produrrà energia proveniente da fonti rinnovabili. Quali saranno i tempi? A breve sarà pubblicato sul sito del Comune di Torre del Greco l'avviso di manifestazioni e interesse per costituire queste comunità energetiche. seguiranno una serie di incontri da parte nostra dell'amministrazione comunale con esperti che palesseranno, spiegheranno a tutti i vantaggi che conseguiranno all'adesione alle comunità energetiche. Che iniziative intendete mettere in campo proprio nel segno della sensibilizzazione della platea scolastica? Se la dirigenza è disponibile noi come Comune siamo attrezzati ed organizzati per fornire del materiale didattico relativamente a una specificità, inserire la materia ambientale nell'ambito del percorso formativo delle scienze naturali in modo tale da dare dei supporti proprio didattici, formativi che possano aiutare nel corso di formazione e la dirigenza stessa e essere fondamentali per un ciclo istruttivo nei confronti dei ragazzi a seconda del ciclo nel quale loro si trovano. Quello primario, secondario e quello degli istituti superiori. Per noi la scuola è l'interlocutore primario perché la scuola sono i ragazzi, la scuola è il futuro. Da qui l'idea ovviamente è di fare un incontro con i diversi assessori e da parte mia anche il saluto del sindaco che stamattina ha spiegato anche una serie di progetti che chiaramente vanno in quella direzione. Nessuna anticipazione? No, stiamo lavorando su alcuni parchi urbani, quello lì diciamo sotto Villa del della terrazza che va fino su Viale Francesco Balzano che è oggetto adesso di ragionamento che stiamo facendo con Napoli, Asla 3, di Torre del Greco. Stiamo lavorando su un parco a Via Calleva Rizz, abbiamo fatto un dog park abbastanza grande, un'area di fitness abbastanza grande, un'area di giustrina abbastanza grande che possa collegarsi con la Santissima Dezza, insomma ci sta un bel progetto di un altro parco urbano. Ovviamente non tralasciando anche le zone di periferia, sulla zona Leopardi c'è un progetto che stiamo iniziando a lavorare che potrebbe venire anche di un bel parco che inizieranno i lavori prossimamente anche della Villa Comunale, non solo chiaramente la Villa Comunale, quindi l'altro lunedì inizieranno i lavori, ci sarà tutto a capo, così come inizieranno poi i lavori alla Villa dove sta il Palazzo Lasalle, poi ci saranno i lavori per Villa Magrini, poi ci saranno i lavori per il parco Portazzo. Speriamo che la gente non solo sia contenta ma che possa essere gelosa del proprio territorio e salvaguardare queste cose perché poi chiaramente noi faremo di tutto per poter in qualche modo salvaguardarli, ma c'è la bisogno della partecipazione del cittadino. Ecco.